Società saccheggiate e portate al fallimento attraverso complesse operazioni finanziarie è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Bologna che ha eseguito le misure cautelari chieste e ottenute dalla Direzione Distrettuale Antimafia. 15 persone arrestate, 17 denunciate e il sequestro preventivo per equivalente di 32 milioni di euro. Le misure sono state notificate in mezza Italia. Prato, Luca, Arezzo, le basi toscane, Ancona, Barletta, Bologna, Brescia-Crotone, Foggia-Milano e un'altra decina di province da nord a sud. Un sodalizio, quello smantellato, composto da cinesi e italiani e il cui anello di collegamento era una coppia di coniugi di Arezzo. Diverse le accuse mosse a vario titolo, a cominciare dalla bancarotta fraudolenta e dal riciclaggio. Banda del buco, così è stato definito il gruppo che ha preso vita, secondo il convincimento degli investigatori, dall'iniziativa di bancarottieri seriali. Le indagini hanno consentito di accertare che nel 2020 l'organizzazione ha assunto il comando di un gruppo societario della provincia di Bologna, composto dalla holding e da tre SRL controllate attive nei settori della cosmetica con 32 supermercati. La guida, stando all'accusa, avrebbe consentito di mettere in piedi un vero e proprio sciacallaggio finalizzato al dissesto economico. Tra le principali operazioni contestate figurano la distrazione di 25 punti vendita, una manovra che avrebbe evitato all'erario la riscossione coattiva di 3 milioni e mezzo di euro di tributi. Il denaro, viene spiegato dalla Guardia di Finanza, veniva reinvestito in nuove attività imprenditoriali tramite il trasferimento a società italiane ed estere compiacenti. 7 milioni di euro il valore delle fatture false emesse da società cartiere cinesi a società italiane realmente esistenti. 11 milioni la montare dei bonifici incamerati sui conti aziendali.